La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha concluso la missione a Salerno, svolta con lo scopo di condurre approfondimenti su alcuni temi d'inchiesta, quali il dragaggio dei porti, i traffici illeciti di abiti usati, gli incendi negli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti. La delegazione ha effettuato un sopralluogo al porto di Salerno, successivamente ha svolto una serie di audizioni con il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Giuseppe Menna, ed il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martirreno Centrale, Pietro Spirito. Ovviamente siamo in un di ieri a fare un sopralluogo, sia per quanto riguarda due filoni d'inchiesta che attengono la nostra Commissione, per quanto riguarda la gestione degli abiti usati, il sequestro che c'è stato dell'impianto, del deposito di stoccaggio degli abiti usati e stiamo iniziando, è la prima volta che la Commissione lo fa, in maniera che riguarda tutto il territorio italiano, la situazione dei dragaggi nei porti, quindi abbiamo iniziato con Salerno e stiamo vedendo, visto che la normativa poi è cambiata nel 2016 con il decreto governativo, stiamo capendo se le procedure in atto sono regolari e come si stanno poi applicando nella pratica. Sicuramente tutti i porti, Salerno ne ha avuto solo uno di dragaggio nel 2004, quindi è giusto che venga effettuato per aumentare i fondali. Rimaniamo un po' perplessi sul fatto che le caratterizzazioni del 2004 e quelle attuali siano le stesse, cioè non c'è stato nessun aumento di inquinamento, ma ripeto, dobbiamo e stiamo acquisendo gli atti per capire effettivamente tutte le procedure e come dovranno poi svolgersi nel migliore impatto ambientale possibile. Per quanto riguarda gli incendi, stiamo facendo un filone a parte, quindi non abbiamo ancora preso informazioni qui a Salerno, abbiamo sentito però l'esercito per quanto riguarda la terra di fuochi e ci hanno spiegato il loro apporto, il loro lavoro che è necessariamente importante e quindi ha abbassato notevolmente nella terra di fuochi l'incidenza dei roghi e quindi vogliamo capire come questo modello poi possa essere esportato anche a livello nazionale perché la situazione riguarda ormai la terra di fuochi, non è solo la terra di fuochi, quella originale diciamo così, ma un po' tutto il paese e il sistema italiano.